Le malattie rare sono una serie di patologie che hanno una frequenza inferiore 1 su 2000, sono circa 8000 condizioni diverse che interessano tutti gli organi e gli apparati, quindi sono delle patologie che sono estremamente difficili da riconoscere e diagnosticare. Il primo problema quindi per una famiglia o un paziente che ha una di queste condizioni è trovare chi ti fa la diagnosi, poi sviluppare un progetto di presa in carico, quindi di assistenza globale di questo paziente che può essere un paziente pediatrico da seguire poi per corso di tutta la vita perché sono malattie sostanzialmente croniche. C'è naturalmente bisogno di ricerca perché le malattie rare soltanto col progresso delle conoscenze, non dimentichiamo che 70-80% hanno una base biologica definita, sono malattie geneticamente determinate. E poi naturalmente c'è tutto il problema dei rapporti con l'associazione che sono degli strumenti fondamentali di interazione con coloro che hanno in carico il problema delle malattie rare. Il Bambini Gesù ha un ruolo fondamentale in questo percorso perché nel Bambini Gesù c'è la più grossa affluenza di malattie rare probabilmente in Italia e sicuramente in questo tipo di regione e quindi noi siamo, ci riteniamo con nostra struttura dei protagonisti in tutto questo percorso che va dalla diagnosi alla presa in carico e alla ricerca. Lo strumento più largamente utilizzato in tutto il mondo è sicuramente questo database che noi curiamo come Orfanette Italia. È un progetto europeo straordinario che oggi è stato preso in carico da tutti i paesi della comunità europea, quindi il Ministro della Salute ha incaricato il sottoscritto e il Bambini Gesù di portare avanti questo progetto che in Italia ha raggiunto i 10 anni di vita e che viene oggi presentato sotto forma di volume che è una sintesi di un grosso database che comunque è consultabile gratuitamente e basta cliccare Orfanette. Ci sono 20.000 persone che ogni giorno da 200 paesi del mondo utilizzano questo strumento che serve avere informazioni sulla malattia, sapere chi fa la diagnosi clinica, chi fa il test di laboratorio, qual è la ricerca in corso sull'argomento, quali sono le associazioni, quindi informazioni che sono strettamente finalizzate ai singoli paesi e che poi danno la possibilità, laddove il paese non abbia risorse specifiche, di andare negli altri paesi della comunità europea, ormai fuori dalla comunità europea, per trovare delle risposte a queste domande.